Cheto al rotolo di crepe al cacao e formaggio quark, la ricetta è sul blog chetoalessia.com Nelle boccale del frullatore versiamo le due uova, il formaggio quark, la ritritola, la polvere di cacao, la farina di semi di lino e qualche goccia di vaniglia. Frulliamo e mettiamo da parte. Per la crema invece mescoliamo il formaggio quark con la ritritola bella e la panna e mettiamo da parte. Adesso prepariamo le crepe, riscaldiamo un padellino, imburriamo, versiamo un po' di impasto, distribuiamo uniformemente e cuociamo ad entrambi i lati. Quando le nostre crepe sono pronte le taggiamo sul piano da lavoro a formare un rettangolo. Le cospargiamo con la crema di quark in modo uniforme, guarniamo con delle pepite di cioccolato e della crema al pistacchio senza zuccheri mi raccomando, ricurviamo i bordi verso l'interno e arrotoliamo per bene. E adesso il momento più goloso, la farcitura con la glassa al cioccolato fondente e panna fusi insieme. Guarniamo con dei pistacchi freschi e dei ciuffetti di panna e conserviamo in frigo per un paio di ore e poi finalmente possiamo tagliare e gustare una fetta del nostro rotolo. Se rifai la ricetta taggami, ciao!